Buonasera e benvenuti colleghi e colleghe di GeoTravel Network. Una forza della partnership con costa e con alcun'algun. Abbiamo avuto in questa azienda, io e Dante, veramente adesso parlo per me, grosse soddisfazioni. Insieme abbiamo fatto un lavoro di grezzo, abbiamo portato Geo quando nessuno ci credeva in cima al mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie.